Oh Simo, com'è allora? Venerdì? Ah c'è il festone all'acqua, a me nessuno mi ha mai detto buon viaggio, attento lo diranno tutti quanti Albe Ok, DJ Camo, B-Boy Mario, venerdì 25 maggio all'acqua, il Mariano di Bordo, The Ultimate Fresh Party Per salutare Simone Mariano, aka B-Boy Mario Simone Mariano dov'è? Dov'è? Si è levato di torno, naviga un po' come te, sul web, è il Mariano di Bordo Simone Mariano dov'è? Dov'è? Si è levato di torno, naviga un po' come te, sul web, è il Mariano di Bordo Simone Mariano dov'è? Simone Mariano. Simone Mariano. Simone Mariano. Simone Mariano. Sì, shelter